Presentato a Milano il 92esimo congresso della SIDEMAST, la società italiana di dermatologia è in programma dal 3 al 6 maggio a Sorrento. Le nuove linee guida e raccomandazioni sulla gestione della cheratosi attinica e della rosacea, malattie della pelle con un pesante impatto su chi ne soffre, saranno tra le principali novità del simposio. Verteranno innanzitutto su diagnosi precoce e trattamento con nuovi farmaci di patologie cutanee. Il congresso spazierà dalle malattie infiammatorie, intendo dire con questo psoria, sidermatite atopica, idrosadenite suppurativa, rosacea, acne, fino ad arrivare ai tumori. Per il trattamento della rosacea esistono diverse terapie, ma tra le novità che verranno presentate al congresso c'è l'introduzione dell'ivermectina come farmaco di prima linea per le forme da lieve moderato a severo. La terapia più innovativa per la cheratosi attinica è invece quella fotodinamica in daylight, ossia alla luce del sole. Il trattamento si è dimostrato che è estremamente efficace, con una risoluzione di più del 90% delle lesioni trattate, praticamente senza dolore e con minima reazione infiammatoria. E soprattutto tutto il ciclo terapeutico si esaurisce in un'unica esposizione, semplicemente con un unico trattamento e poi con un tempo presumibile di riparazione di 3, 4, 5 giorni, il problema è controllato.